Musica Esondazioni, frane, comunità isolate, la carnia tra le zone più in difficoltà, allarme per il tagliamento, nuova allerta rossa fino a martedì Il torrente Degano fa paura, sgomberi, ponti chiusi, abitazioni allagate, l'appello del sindaco Beorchia, vi supplico chiudetevi in casa Domani in tutta la zona montana, da Gemona in su e nella provincia di Pordenone, gli istituti scolastici rimarranno chiusi, precipitazioni eccezionali, evitiamo rischi A Genova, Lasagne e De Paul grifano il 2 a 2, interrompendo la serie negativa, la fermana batte i neroverdi al Bottecchia Musica Buonasera a tutti, buona domenica, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Udnews TV Apriamo ovviamente parlando della violenta, ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione Grossi disagi soprattutto per quanto riguarda le zone montane, la carnia è una delle zone più colpite Con paesi che sono ancora isolati, senza luce, senza acqua, senza linea telefonica Ci racconta tutto Davide Zanirato Fiumi e torrenti esondati, strade trasformate in corsi d'acqua, frane e smottamenti che hanno interrotto la viabilità Blackout elettrici, telefonici e idrici, famiglie sgomberate La montagna del Friule, in particolare la carnia, è in ginocchio dalla mattinata di oggi A seguito dell'ondata di maltempo che, con allerta rossa, si sta abbattendo su tutto il territorio I comuni in stato di emergenza sono quelli di Sauris, Sappada, Fornia Voltri, Prato Carnico e Ovaro Interessati da allagamenti, interruzioni della viabilità locale e regionale Disagi sparsi per acqua, luce, gas e telefoni Tanto che gli amministratori locali hanno già annunciato la chiusura delle scuole nella giornata di domani A Sauris, in particolare due frane a ridosso dello sbarramento della diga su Lumiei E lungo la strada che sale verso la frazione di Latteis, hanno isolato la località di La Maina E della stessa Latteis La vallata è raggiungibile solamente da Casera Razzo Interrotta pure la strada regionale 355, tra Rigolato e Fornia Voltri E tra Fornia Voltri e Sappada Chiuso poi il passo di Monte Croce Carnico sul versante Carinziano, sempre per smottamenti In Valpesarina, colpita in particolare la frazione di Osais Con la strada regionale che attraversa il paese, coperta dal fango e dai detriti Ad Amaro è stato scoperchiato il tetto di un locale vicino al casello autostradale Cadute di alberi si sono registrate a Moggio, Tolmezzo, Villa Santina, Verzegnis, Pontebba Senza luce, né telefoni, Paolaro, Ligosullo, Cesclans di Cavazzo Carnico Dalle 8 del mattino il tagliamento ha raggiunto il livello di guardia, Venzone Centinaia, gli uomini impegnati in interrottamente dall'alba Tra vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, FVG strade, Enel, Telecom, tecnici comunali E per la notte si preannuncia ancora tanta pioggia Tra i comuni colpiti avete sentito anche quello di Sauris Pocofai, il sindaco di Sauris ha affidato alcune dichiarazioni a Lanza Hermes Petris ha detto Siamo di fatto isolati, la strada è percolibri fino alla diga Poi è chiusa in direzione di Sauris di sotto e Latteis Non si può passare neppure dal cadore A causa di un passaggio su un ponte che si riempie d'acqua Attendiamo ulteriori verifiche e sopralluoghi sulla viabilità Che si terranno domani Mentre appunto conferma che due famiglie Tra cui una copia di anziani Sono state fatte evacuare a scopo precauzionale Dalle loro abitazioni nella frazione di La Maina Altro comune pesantemente colpito E' quello di Ovaro a causa dell'esondazione del torrente Degano Ponti chiusi, la cartiera sgomberata, case e chiese invase dall'acqua Anche qui sentiamo la voce del sindaco Mara Beorchia Mara Beorchia, sindaco di Ovaro Alle sue spalle il Degano Che è tracimato allagando la chiesetta del 1300 E' un'intera abitazione davvero critica la situazione? Non critico, è un disastro Sinceramente siamo ulteriormente provati come comune Da un evento adesso naturale veramente sconvolgente Che ci ha travolti letteralmente con questa ondata del Degano Che ha messo veramente sotto sopra questa zona qua E ha creato un problema non di facile gestione al momento Quali sono i punti più critici sul territorio che state monitorando oltre a questo? Tutti i ponti sui vari torrenti che ci sono, che sono tutti in piena Il Degano è veramente in fase di piena Veramente incontrollata perché confluisce anche il Pesarina Nella frazione di Luincis Quindi veramente stiamo monitorando tutti questi fiumi e torrenti Che stanno creando grosse preoccupazioni Per la tenuta poi anche dei ponti e di tutto quanto Io chiedo solo e supplico la gente a non muoversi di casa Non venire a vedere anche a piedi per curiosità o per apprezzione Non ne posso capire la preoccupazione però un consiglio e un invito ai cittadini State a casa perché qua sul posto ci sono tutte le persone Che sono utili a tenere questa situazione monitorata e sotto controllo Nel limite del possibile Sotto controllo è una parolona Non siamo ancora nella condizione di poter dire che la situazione è sotto controllo Chiederete naturalmente lo stato di calamità e scuole chiuse da domani? Su questo ci stiamo adesso confrontando con tutte le protezioni civili, vigili del fuoco Stiamo ancora valutando tutto quanto sarà da fare anche in termini di atti necessari Indispensabili sempre con l'intenzione di garantire la salute assolutamente dei nostri cittadini E la salvaguardia della vivibilità del nostro paese Che anche oggi è provato in modo veramente troppo davvero pressante Convocata l'unità di crisi nella sala operativa di Palmanova della protezione civile Sono oltre 450 i volontari impegnati sul territorio in forza a 86 comuni Intanto lo stato di allerta resta massimo e domani è previsto un ulteriore peggioramento Vediamo Allagamenti, corsi d'acqua tracimati o in piena, frane e alberi rotti E lunga e consistente la scia di danni che maltempo sta lasciando in Friuli Venezia Giulia Sono l'area montana e quella pedemontana le più colpite Le piogge sono risultate violente soprattutto in Carnia Dove da ieri sono caduti dai 200 ai 400 millimetri di acqua Sulle prealpi carniche dove si uscilla tra i 150 e i 300 millimetri E sulle prealpi giuglie dove si va dagli 80 ai 250 Il vicepresidente della regione con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi Ha convocato l'unità di crisi nella sala operativa di Palmanova A cui è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga Oltre 450 volontari impegnati sul territorio In forza 86 comuni con 130 mezzi Costante collegamento con 11 centri operativi comunali attivati Oltre che con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Lo stato di allerta è massimo nelle aree più interessate Dal peggioramento degli eventi atmosferici In particolare l'Alto Pordenonese, la Carnia e il Tarvisiano Tanto che è stato deciso di chiudere le scuole Desta preoccupazione è anche la situazione del fiume Tagliamento Tra San Michele e la Tisana In quanto stato superato il livello di primo presidio Sino alla mezzanotte continueranno le piogge Ancora molto intense e persistenti Sulla fascia pedemontana e montana Nella notte potrebbe esserci una pausa Ma dalla mattinata di domani si abbatterà sulla regione Un secondo violento fronte Con precipitazioni anche superiori ai 300 millimetri E con raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari Al termine di questo tavolo dell'unità di crisi Il presidente della regione Federica ha affidato a Facebook Alcune decisioni, alcune riflessioni Tra quelle la proposta ai comuni di chiudere Nella giornata di domani Tutte le scuole della zona rossa Quindi quella che sarà interessata Da un'altra grave ondata di maltempo Quindi la provincia di Pordenone E tutti gli istituti scolastici della zona montana Da Gemona in su Ha parlato anche il vice presidente della regione Riccardi Sentiamo Evitare di fare azioni di mobilità elevata Quindi il tiro di casa, fare viaggi Io consiglierei per lo meno per questa giornata E per la giornata di domani Dove prevediamo delle precipitazioni ancora più intense Di evitare viaggi Evitare mobilità Poi abbiamo già previsto la chiusura delle scuole Adesso trasmetteremo ai sindaci questo E domani aspettiamoci un'altra giornata difficile Auspicando che il maltempo che arriverà in zone limitate E le forti raffiche di vento non pregiudichino una condizione Che fino ad oggi al di là di qualche punto di oggettivo Di disagio non badano oltre E quindi siano contenibili nelle azioni che abbiamo fatto nel corso di queste ore Chiudiamo ora questa ampia pagina dedicata al maltempo Saremo pronti ad aggiornarvi ovviamente sempre Anche nella giornata di domani Non solo nelle nostre edizioni del telegiornale Nel corso di tutto il giorno Ma anche e soprattutto sulla nostra pagina Facebook Con tutti i video, le foto in tempo reale Di quello che succede, succederà nella nostra regione domani Ora andiamo avanti con le altre notizie Cominciamo da un incidente stradale Avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'A28 Tra Villotta e Assano Decimo in direzione Conegliano Accaduto verso le 15.30 Un furgone Mercedes Sprinter è uscito di strada Rovesciandosi in un campo limitrofo alla careggiata I due occupanti, padre e figlio, residenti a Sacile Hanno riportato traumi non gravi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vitto Al Tagliamento, la polizia stradale Il 118 e l'Eli Soccorso I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso Dell'ospedale di Pordenone E domani il governatore Fedriga Incontrerà a Roma il ministro delle finanze Tria Sul piatto il sistema di compartecipazioni E quanto il Friuli Venezia Giulia deve versare nelle casse dello Stato Vediamo Primo confronto ufficiale per il governatore Massimiliano Fedriga Con il ministro delle finanze Giovanni Tria Un incontro a Roma volto a ridiscutere il sistema di compartecipazioni E lavorare all'aumento dei decimi che il Friuli Venezia Giulia Può vantare sull'IVA pagata nel proprio territorio Di fatto è già stato ottenuto uno sconto di 200 milioni di euro Dei contributi del Friuli Venezia Giulia a Roma A conferma dell'attenzione del governo per le istanze delle autonomie Come rimarca lo stesso Fedriga Siamo un tavolo aperto, non portiamo nuove richieste Perché siamo in discussione già da diverso tempo Faremo questo passaggio anche con il ministro Tria Quello che ci interessa e di questo devo ringraziare già il governo Che già nella prima vozza, malgrado non ci sia l'accordo Come non c'è un accordo con nessuna regione a strutto speciale Già in questa prima parte di legge di bilancio Hanno previsto un taglio di 200 milioni Ai contributi che la regione Friuli Venezia Giulia dava a Roma Infatti non hanno rinnovato le misure che aveva introdotto Monti Cosa che invece era scontata E devo dire che è già un obiettivo enorme In pochi mesi passiamo da più di 900 milioni Che la regione Friuli Venezia Giulia dava allo Stato A 720 milioni Ci auguriamo ovviamente di migliorare ancora di più il risultato Però questo vuol dire che il governo dimostra di essere sensibile Alle istanze delle autonomie e delle regioni come il Friuli Venezia Giulia Ultimo appello ai risparmiatori traditi Per costituirsi parte civile nel processo Contro gli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza Consumatori attivi ha promosso un incontro per domani sera In Camera di Commercio a Udine Vediamo L'appuntamento è per domani sera Lunedì 29 ottobre alle 20 Nella sede della Camera di Commercio di Udine Sala Valduga Consumatori attivi chiama raccolte e risparmiatori traditi Da Banca Popolare di Vicenza Per rilanciare la costituzione di parte civile Nel processo contro gli ex vertici dell'istituto bancario Che si aprirà il primo dicembre in tribunale a Vicenza Siamo consapevoli che il procedimento è a rischio prescrizione Siamo molto consapevoli che le casse della banca sono vuote Parimenti le persone chiamate a rispondere si sono già liberate dei propri beni Già un paio d'anni fa Però riteniamo comunque utile mantenere alta l'attenzione Perché tutto questo mantiene anche diciamo così un tono molto forte Nei confronti dell'approvazione del fondo di ristoro per le vittime del risparmio tradito Che attendiamo con ansia venga messo nero su bianco Si tratta del milione e mezzo di euro proveniente dai conti dormienti promesso dal governo E che porterebbe ai risparmiatori una prima tranche dei rimborsi pari al 30% del capitale perso Il via alle domande per ottenere i fondi dovrebbe scattare il primo febbraio Intanto da consumatori attivi arriva un'altra notizia L'apertura di un gruppo anche in Toscana Regione tra l'altro martoriata come noi Perché noi affianchiamo come loro affiancano noi Gabbati delle quattro banche messe in liquidazione nel 2015 E quindi con molto orgoglio presentiamola ai nuovi sportelli a Pisa Con referenti e volontari che come noi assolutamente cercano di affiancare Tutelare i diritti del cittadino nella vita di tutti i giorni In tutte quelle che possono essere le controversie del nostro quotidiano Andiamo ora a Gorizia dove nell'ambito delle iniziative promosse nel centenario della fine della grande guerra È stato ospite stamattina dell'associazione Estoria Il diplomatico, scrittore e storico Sergio Romano Sentiamolo Oggi a Gorizia per parlare della fine della grande guerra In un territorio in cui il conflitto ha lasciato segni pesanti Però in cui oggi si lavora per la cooperazione e per la pace Secondo lei è dovuto anche all'insegnamento lasciato appunto dal conflitto? Ma per molto tempo effettivamente la pace è stata in qualche modo garantita Dal ricordo della prima guerra mondiale e dei suoi disastri Io però le devo dire la verità che ho l'impressione che questo ricordo si stia appannando E che la gente, gli uomini di Stato, forse persino i giornalisti Abbiano dimenticato gli orrori della grande guerra E stiano correndo rischi molto superiori a quelli che si correvano per esempio 10 o 20 anni fa Quindi secondo lei questi eventi che ricordano la fine della grande guerra O comunque il passato sono utili? Sarebbe sciocco che le nuove generazioni non sapessero quello che è accaduto Soprattutto in città come questa che è della prima guerra mondiale Ha vissuto tra l'altro alcune delle pagine più interessanti e più importanti Oggi si parla tanto dei rapporti dell'Italia con l'Europa Anche di una eventuale uscita dall'Unione Europea Come vede lei la situazione? Ma io spero che di uscita dell'Unione Europea forse non si parlerà più Ma nell'uscita dell'Unione Europea qualcuno mi ha chiesto Ma l'Italia potrebbe tradire l'Europa? Io ho detto che si tradisce qualcuno quando gli si fa del male Ma quando si fa del male a se stessi si chiama suicidio, non si chiama omicidio Spostiamoci ora a Palmanova dove da domani pomeriggio sarà chiusa al traffico Porta Udine Per la sistemazione della grande ruota che nei secoli passati Consentiva di muovere il ponte elevatoio a difesa della fortezza È uno dei pochi meccanismi del genere rimasti in Italia Ma è sotto attacco delle intemperie, del tempo che scorre e dei piccioni Un bene, patrimonio unesco, non se lo può permettere Il comune di Palmanova ha deciso di restaurare la grande ruota Che nel XVII secolo movimentava il ponte elevatoio di Porta Udine I lavori inizieranno lunedì pomeriggio Saranno effettuati in loco e questo richiederà la chiusura al traffico Dell'accesso alla città stellata fino al termine dei lavori Indicativamente il 17 novembre 98 mila euro il costo dell'intervento coperto con fondi in parte della Camera di Commercio In parte del Comune Saranno restaurate e trattate sia le parti lignee sia quelle metalliche della grande ruota E ricostruite le piccole parti perse nel tempo Con gli stessi fondi saranno rimessi a nuovo anche i portoni di legno Che chiudevano Porta Udine Ora nei depositi comunali in attesa di restauro A lavori ultimati saranno collocati sotto il loggiato al coperto sul lato destro Nel corso dei secoli infatti il manto stradale è stato via via innalzato E non c'è più lo spazio per collocare i portoni delle dimensioni originali Oltre 4 metri d'altezza al loro posto Dalle 13 di lunedì dunque, terminato il mercato settimanale La strada sarà chiusa al traffico Deviato su Porta Aquileia e Porta Cividale Anche per queste due strutture sono in programma dei lavori Entro fine anno inizierà l'intervento di sistemazione del tetto di Porta Aquileia 500 mila euro la spesa prevista Ci sono invece ben 3 milioni di euro Dalla soprintendenza e dal Ministero della Difesa Per Porta Cividale Dove si trova il Museo Militare In questo caso i lavori interesseranno anche la lunetta napoleonica e i baluardi Andiamo a teatro ora con Victor und Victoria In tournée in regione La protagonista è Veronica Pivetti Nei panni di Susan Weber Un'attrice che pur di lavorare si finge uomo per recitare da donna L'abbiamo incontrata prima dello spettacolo nei camerini del Giovanni Daudine Vi proponiamo ora un estratto dell'intervista che potrete poi vedere integralmente nella puntata di martedì di su Il Sipario Io penso che il modo migliore per far riflettere tutti noi sia tramite proprio il riso Perché il riso è un veicolo eccezionale Come dice il detto ridendo e scherzando Bertoldo si confessa Cosa vuol dire? Che insomma se noi veicoliamo tramite una commedia Dei concetti che sono anche molto profondi Molto fondanti anche della nostra civiltà È il modo migliore Intanto perché io amo la commedia È il genere nel quale sono più a mio agio Quindi mi piace raccontare le cose in commedia Poi io penso che la commedia si annidi dappertutto nella nostra vita Anche nei momenti più drammatici c'è sempre uno spunto di commedia che noi possiamo cogliere E i temi sono forti Sono forti anche perché noi raccontiamo un periodo che è il periodo della Repubblica di Weimar E dell'avvento del nazismo Quindi anche nella nostra commedia dove si ride Però si sente quest'ombra nera che sta arrivando Perché è esattamente quello che è successo Lo sport ora con il riassunto della giornata calcistica Partiamo dall'Udinese che ha interrotto la sua serie negativa Con un pareggio per 2-2 colto in trasferta a Genova Un pareggio tra l'altro in rimonta Hanno segnato Lasagne e De Polo in servizio L'allerta meteo non frena al match del Ferraris Dopo i timori dell'immediata vigilia La pioggia concede tregua e lascia spazio al duello tra Genoa e Udinese La grande novità è il debutto di Juan Musso tra i pali Con Mandragora in panchina a favore di Barak Forte del fattore casa e del recente pari con la Juventus Il Genoa prova a partire forte E Bessa sfiora il bis del gol di testa alla vecchia signora Colpendo solo la parte esterna del palo Sempre in impatto aereo replica l'Udinese Con Lasagna che gira al cross di Larsen Trovando la deviazione di Rabi Musso respinge con la figura la punizione dal limite di Criscito Poi diventa protagonista negativo dell'episodio del calcio di rigore Travolgendo Bessa in corsa Romulo spiazza l'estremo difensore argentino E porta in vantaggio i padroni di casa Nessuna modifica l'uscita dal tunnel Con il primo cambio di Velasquez Che arriva dopo l'ora di gioco Teravest per Berami La partita svolta pochi istanti dopo Battuta veloce del corner di Barak per Depol Lasagna incorna perfettamente il cross dell'argentino Anticipando i due difensori più vicini E infilando Radu per la rete dell'1-1 Il Genoa risponde subito Proprio dalla bandierina Pochi secondi dal pareggio La squadra di Juric ritrova il vantaggio con Romero Che sovrasta Fufanà e riporta avanti il griffone La partita esplode definitivamente con la bomba di Depol Gioco di gambe di Struger che scarica Rodrigo Destro a giro all'incrocio dei pali Balisticamente perfetto E terzo gol nel giro di 5 minuti Per il momentaneo 2-2 Quinta realizzazione per l'argentino in Serie A Alla miglior stagione in Italia E in dubbio leader tecnico della Rosa Friulana L'Udinese a un quarto d'ora dalla fine va in superiorità numerica Con l'espulsione di Romero Già ammonito e ingenuo ad alterrare Pussetto in scivolata per il secondo giallo Velasquez e Juric pescano a piene mani dalle panchine Giocandosi tutte le sostituzioni per l'ultima parte della contesa L'abbondante extra time di 6 minuti Concede una ghiotta occasione all'ex Mandragora Che spara addosso a Radu con il sinistro Da dentro l'area di rigore L'Udinese interrompe così la striscia di sconfitte Portando a casa il nono punto della sua stagione Scendiamo ora in Serie C Dove la Triestina ha battuto il Renate per 3-1 E' arrivata invece la prima sconfitta stagionale Per il Pordenone Fermato in casa dalla Fermana E' la Fermana a portarsi a casa lo scontro diretto In vetta la classifica del Girone B Imponendosi 1-0 al Bottecchia di Pordenone Squadra che vince non si cambia per Tesser Che ripropone in toto l'undici che aveva battuto 2-1 in Renate Identico il ragionamento per la Fermana Con la stessa formazione della pesante affermazione sul Vicenza Al 25esimo il Pordenone va a segno Ma la deviazione di Magnaghi è con la mano Gol annullato e conseguente giallo da parte dell'arbitro Maranesi di Ciampino Il grande protagonista dello scorso turno D'Angelo Prova a ripetersi dopo la doppietta al Vicenza Ma il suo tiro si ferma sul palo Alla mezz'ora l'episodio decisivo che sblocca l'incontro Fallo su Comotto e calcio di rigore Trasformato dall'ex Juventus Giandonato che fredda Bindi Allo scadere del primo tempo Burrai prova a impattare Sempre su piazzato Ma la sua punizione finisce fuori di pochissimo Al rientro Tesser butta nella mischia Ciurria per Bombaggi Poco più tardi Germinale sostituisce Magnaghi Gavazzi tenta di impensierire Ginestra con una conclusione frutto di un'azione personale Ma l'estremo difensore ospite mette in corner A ridosso dell'ora di gioco il capitano della fermana Comotto resta contuso Ed è costretto ad abbandonare il campo in barella I ramarri non si arrendono e per poco non trovano il pari con De Agostini Su assist di Burrai sfiorando la replica di quanto visto una settimana prima al Bottecchia È il neo entrato Calzola a mettere invece paura a Bindi con un mancino dal limite che esce di poco alto Il finale di gara è acceso Ciurria ha la palla dell'1-1 servita da De Agostini Ma la sua traiettoria non inquadra il bersaglio Nel maxirecupero di ben 7 minuti la battaglia non porta all'esito sperato E la formazione di Tesser per la prima volta è costretta a capitolare Con la consolazione di restare comunque in vetta con un punto di vantaggio proprio sulla fermana Prossimo turno in trasferta contro la San Benedettese il 4 novembre È tutto, vi lasciamo alla nostra consueta rubrica Accade oggi, grazie per averci seguito Buon proseguimento di serata Il 28 ottobre del 1952 nasce a Treviglio Roberto Corti Roberto Corti va ricordato come uno dei migliori estremi difensori dell'Udinese negli ultimi 40 anni Ha iniziato a giocare nella Trevigliese Poi è passato al Sorrento Quindi dal 76 all'82 al Cagliari Con cui ha fatto un salto di qualità Per poi essere acquistato dall'Udinese nell'estate del 1982 Quell'Udinese che stava crescendo Che disponeva già di elementi di primo ordine Mauro, Causio e Digno, Surriac Nell'82-83 l'Udinese si qualifica L'Udinese si classifica al sesto posto Corti disputa 21 gare su 30 All'inizio di campionato Ahimè deve abbandonare per un mese e mezzo il posto Per un infortunio che subisce contro il Torino 2 a 2 Poi a novembre ritorna in campo E' uno dei migliori dell'Udinese Anche se nelle ultime tre gare L'Udinese dà nuovamente via libera a Borin Che è uno degli atleti emergenti di quella squadra E' uno dei migliori dell'Udinese E' uno dei migliori dell'Udinese